Faccio un altro caffè. Ti faccio il latte con i biscotti? No. Io prendo una crema caffè. Non c'è la crema caffè. È la sotto. Nella bottiglia di vetro. Oggi non si fai a scuola. Ho dà i augasti. Sari un bacancio. Dove mi va bo. Dove mi va bo bo. Allora, qui va... Que vai bo! Grazie. Grazie. Alla. Alla. Stop. Antonia. Heeya constitulle. EFlaughs. Momi gelato a po impermanent... EF quando torriamo Cara-lava a vitamin D vs Askamonovini. Grazie.